Grazie, grazie mille. Ieri ho avuto una gioia incredibile e ringrazio la mia compagna per avermi regalato questa gioia straordinaria. Sì, siamo contentissimi di quello che stiamo costruendo, stiamo lavorando bene, sentiamo di crescere partita dopo partita, siamo sempre più squadra, non siamo più un gruppo ma una squadra e vogliamo continuare così e vogliamo essere protagonisti. Sì, lavoriamo bene e quindi poi lo riportiamo in partita, tutti sentiamo la responsabilità e tutti vogliamo essere protagonisti, ci sono dei ruoli, delle gerarchie però chiunque sarà chiamato in causa sono convinto che farà bene. Sì, per me è importantissimo, cerco di rubare ogni giorno sia da Camille che da Fede, per me sono degli esempi, sono ottimi professionisti ma così come voglio rubare da Letizia, dalla Padula, dalla gente che ha più esperienza di me. Non posso che imparare da loro e proverò a rubarli il più possibile giorno dopo giorno. Sì, è una sfida stimolante, magari saremo curiosi di vedere a che punto siamo arrivati nel nostro percorso e non vediamo l'ora di giocarla.